benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video mac bang o mukbang scusatemi un po ma oggi sono in quel primo del mese quindi sto veramente male 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 ma dovevo fare questo video anche perché tra due giorni sarebbe scaduta quindi allora l'ultimo prodottino che avevo da provare era la rebo pala di revolution 03 sapete che ho anche un codice sconto che è giuli 10 ve lo lascio anche scritto giuli se volete supportarmi ha tantissimi prodotti anche per la keto ma anche per le diete low carb allora quindi è un prodotto low carb per porzione quindi per 200 grammi per tutta a 460 calorie grassi 18,8 carboidrati 8,6 fibra alimentare 64 quindi è un po alto di fibre però a me non fanno niente voi scegliete in base comunque le vostre esigenze e proteine 32 grammi io ho un caldo assurdo comunque come farcita con crudo fior di latte olio e rucola quindi va bene ma la morbidezza c'è ma ne vogliamo parlare della morbidezza ciò vi sto registrando anche un cosa mangio su tik tok ma va bene comunque assaggiamo io ho assaggiato la pizza il pan pizza tipo salto in bocca alla fine tutti e tre hanno un sapore molto simile però è un prodotto molto valido io ovviamente che non mi munisco mai allora che dire molto buono il sapore è simile agli altri due prodotti però questo farcito anche con il sugo è molto buono oppure un po di burratino però è buono questi prodotti mi sono piaciuti molto ne ho provati tre ho visto che uscita anche la pedina infatti nel prossimo ordine la prenderò se state cercando dei prodotti low carbon questi sono veramente ottimi che ciò mi sono sottiletto no ma è molto buona poi se mi sbaglio bisogna conservarli in frigo una volta aperti io o perché sono in quel periodo lì ma sono già super sazia la domanda più gettonata ma proprio in generale spesso me la fate è questa mentre io vi saluto sempre tutti al momento stai seguendo un'alimentazione libera o tieni conto di calorie macro su un bacio no sto seguendo un'alimentazione libera ma forse già da un anno a questa parte si ho trovato il mio equilibrio ma no perché contare calorie sia da malati assolutamente no proprio da sicure che io a settembre ritornerò di nuovo a contare mi riesco a bilanciarmi anche senza stare lì a contare le calorie eccetera mia opinione personale e mia esperienza personale mi ci sto trovando anche abbastanza bene facendo così poi un altro che non è una domanda grazie per le recensioni sono utilissime aspetto le barrette pro disso il video sulle barrette pro disso non penso che lo farò sapete perché? perché io ho provate tutte quelle lì ho con la confezione nera che al momento mi sfugge mi sfugge proprio il nome però io le ho provate quelle ho provato anche le melty si chiamano così le ho provate sono molto valide ho provato anche i biscotti no nel mese di maggio non penso ma nel mese di giugno vi dico già che uscirà qualche video anche inerente a Prozis voglio riprovare di nuovo le farine anche perché io non le provo da 2019 2018-2019 alcuni gusti non mi piacquerò però per assicurare che a distanza di 2-3 anni qualcosa sia cambiato sapete che la mia preferita in assoluto è il limone quindi se state cercando una farina buona e vi piacciono le farine al limone diciamo più agromatiche ve la straconsiglio quella è una bomba è veramente buona ma voglio provarvi anche i gelati voglio provarvi anche i panificati perché ci sono pure ho visto wrap a tantissimi gusti ci sono i waffle veramente tanti 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 prodotti cioè io ho lasciato Prozis non acquistato da Prozis 2019 lo sapete che non mi ricordo bene 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 ma io ho riaperto Prozis il sito di Prozis nel 2022 un cambiamento esagerato ma così come tanti altri siti hanno fatto veramente un salto di qualità assurdo a volte non vi faccio tante recensioni perché so che a molti piacciono e a molti non piacciono come so che a metà delle persone che mi seguono vorreste video recensioni tutti i giorni veramente e molti altri dico challenge tutti i giorni però è più sostenibile per me fare metà e metà ecco ma tipo pure una domanda che questa già risposi in un vlog ve lo lascio comunque anche giù perché l'ho approfondito proprio bene perché molti dicevano sì ma vogliamo più challenge porta solo le challenge eccetera eccetera no a parte che non è proprio sostenibile sia economicamente ma anche comunque fisicamente quindi potrei portarvi infatti vi dissi pure la faccia una cosa porto una challenge a settimana io vado proprio una bomba cioè però sinceramente alla fine non mi resta niente cioè alla fine non faccio ciò che mi piace al cento per cento quindi no vi lascio il video cosa dite i momenti dove hai pensato in generale di non riuscire nei tuoi obiettivi come come ti sei penso approcciata sicuramente guarda sempre non dico tutti i giorni ma mi capita tante volte al mese veramente ma io penso un po' in tutto perché viviamo sempre un po' di stallo di fermo dice ok ma che faccio anche perché pure non è semplice a volte questo dico cercare pure di creare dei contenuti che comunque alle altre persone possono piacere perché posso creare pure un contenuto che per me sia oh mio dio per l'altro questo dice ok sto a posto cioè non è mai semplice ma non sono per quanto riguarda youtube proprio in generale ci sono veramente delle gente che dici mamma mia ma che che sto facendo poi abbandono tutto però poi dico no non lo farei mai non lo farei mai e infatti quando mi frulla questo pensiero dico sempre ok allora prendo tutto il 2018 il 2019 il 2020 il 2021 buttalo nella spazzatura e chiudi tutto ma vai fai altro io così faccio sempre poi mi sento male perché se ripenso a quegli anni dico no Giulia vai avanti perché sei partita veramente da zero e non è semplice crescere da sola ti affidi a intelligenza allora ok però io sinceramente anche no quindi bisogna andare sempre avanti comunque mi immagino l'ultimo pezzo la vediamo un po' questa domanda pure l'altra volta volevo dirla poi mi sono dimenticata mi ha scritto come stai? bene non mi lamento poi ha continuato poi ha continuato e mi ha scritto ultimamente mi sei sembrata meno spensierata sulla sensazione? no hai ragione è vero nell'ultimo periodo forse non è l'ultimo periodo proprio nell'ultimo anno fine 2020 inizio 2021 mi sono proprio annullata sotto tanti punti di vista mi sono annullata forse troppi pensieri troppe preoccupazioni troppe cose mi hanno un po' portato ad essere così mi sono non giuse me stessa però tante cose vedo tante cose che non mi piacciono sento tante cose che non mi piacciono quindi tutte queste cose io ho un carattere che le accumula tutte 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 cioè come se fosse una spugna e quindi questa cosa poi ne risento veramente ne risento e quindi è così però è vero è brutto dire però sì cioè anche io so che è così quindi forse a volte si percepisce anche però è vero una volta questo dico dico vicino alla mia migliore amica noi abbiamo 20 anni settembre 21 ma siamo troppo vecchie cioè nel senso ragioniamo come 30 anni oppure qualcosina in più non ragioniamo come le ragazze della nostra età molte ragazze della nostra età non tutte però molte sì pensano solo al divertirsi invece noi il divertimento lo mettiamo forse all'ultimo l'ultimo posto e questo anche è molto sbagliato però è così cioè ognuno di noi vive una vita diversa ognuno di noi è diverso però spesso me ne rendo conto dico io a 20 anni non posso pensare così a volte mi arrabbio anche con me stessa però dico ok che ci puoi fare? che ci puoi fare? niente ok il gioco ovviamente viviamo anche in una società che non collabora quindi facciamo il gioco della lattina vedi io poi adesso ancora il gioco della lattina cioè vedete? ebbene chiesa dai ultimo sorfettino di coca che poi tra l'altro oggi è arrivata anche la degusta box ci sarà di là qualcuno che vorrà provarla perché loro quando me l'hanno vista tutti così mi l'ho lasciato anche un po' ma veramente è una bomba 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 e quindi nulla io spero che anche questo video vi sia piaciuto fatemi sapere se voi avete acquistato qualcosina oppure siete intenzionati dopo i miei tre video ad acquistare qualcosa comunque è un'azienda che a mio avviso ne vale veramente la pena quindi andateci a dare un occhio e quindi nulla noi ci vediamo nel prossimo video ciao